Vaccinati, contagiati e ricoverati, un fenomeno che inevitabilmente ha sollevato qualche dubbio che adesso gli esperti provano a chiarire. In questa fase della pandemia ci sono due obiettivi fondamentali, spiega Danilo Tacconi, direttore del reparto di malattie infettive del San Donato. Il primo, intensificare la vaccinazione per raggiungere l'immunità di e cioè sino al punto in cui almeno l'80% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Il secondo è invece mantenere l'uso delle mascherine e delle norme di prudenza. Negli ultimi nove giorni, prosegue, nella provincia di Arezzo abbiamo avuto 50 casi di media al giorno. Abbiamo pazienti in degenza Covid, il cui numero non arriva a due cifre e due pazienti in terapia intensiva. La sintesi è che le precauzioni non possono essere abbandonate né alla prima né alla seconda dose di vaccino, soprattutto avendo a che fare con varianti e un'immunità della popolazione ancora non sufficiente. Come evidenziato, l'Istituto Superiore di Sanità siamo di fronte a un paradosso, commenta poi Elena De Santis, responsabile dell'igiene pubblica della zona retina. Sono stati infatti raggiunti livelli elevati di copertura e in questa fase il numero assoluto delle infezioni ospedalizzazione e decessi diventa simile per vaccinati e non, ma se leggiamo l'incidenza, cioè il rapporto tra numero dei casi e popolazione, scopriamo che quella dei vaccinati è 10 volte più bassa di quella dei non vaccinati. La sintesi è che il vaccino funziona, ovviamente la sua copertura non può essere al 100%. Una riflessione infine merita l'ospedalizzazione. Dobbiamo distinguere le differenze tra i pazienti in degenza Covid, spiega Danilo Tacconi, tra quelli vaccinati con il ciclo completo, il numero assoluto è decisamente più basso rispetto ai non vaccinati. Il motivo dell'adegenza ospedaliera è infatti spesso indipendente dal Covid. Il numero dei vaccinati ricoverati non può essere quindi utilizzato per mettere in discussione l'assoluta validità e necessità della vaccinazione.